Ci siamo. Buongiorno a tutti, scusate il frangente ma siamo riusciti con ponti LTE, cellulari, fare gap su connessioni mancanti, comunque ad avere le slide. Di cosa parlerà questa presentazione oggi? Parlerà delle frodi online e di quello un po' che abbiamo visto durante vari anni di analisi di problemi. Ovviamente questo è stato tratto da un nostro corso che facciamo alle banche in Italia. Diverse slide le abbiamo tolte perché solitamente facciamo vedere poi anche delle informazioni relativamente a Botnet e altri aspetti interni di Botnet che sono stati identificati nel tempo con aspetti specifici del singolo istituto che però sono stati rimossi da questa presentazione. Ovviamente i pareri espressi sono solamente dell'autore. Chi sono io? Sono il Technical Director di Mind and Security che è un'azienda focalizzata nella sicurezza applicativa. Faccio il Penetration Tester da circa 11 anni. Mi piace molto trovare ed esploritare vulnerabilità nel software come tra l'altro a diversi che sono in questa sala. Lavoro con i team di Fraud Detection da circa il 2010. Di cosa parlerà questa presentazione? Questa presentazione parlerà di criminal business. Ovviamente il criminal business è aiutato... E' colpa mia? Mi sentite? Il criminal business parlerà degli utenti che aiutano gli attaccanti ad entrare all'interno della propria macchina. Abbiamo visto da circa il 1995 una discreta serie di eventi che hanno portato ad un aumento delle complessità degli attacchi. Qui vediamo una serie di attacchi che erano senza fini di lucro, fino ad arrivare ad esempio a tutto l'attacco portato a termine dalla gang di Gonzales. Non so se avete seguito ma gli aspetti di Artland Payments nel lontano 2010-2008 relativamente al fatto che fossero state rubate circa 110 milioni di carte di credito utilizzando una rete internazionale di persone. Tra l'altro Gonzales era un informatore dell'FBI che è questa persona che è qui connessa a tutta una serie di persone tra l'altro anche alcune di FRAC fra cui The Unix Terrorist che aveva scritto il rootkit che poi era stato messo all'interno appunto di Artland Payments dal quale hanno sifonato in circa un anno queste 110 milioni di carte. Diciamo che da il Gonzales-Hack che tutto nacque da una problematica di SQL Injection trovata da un loro corrispondente russo perché avevano usato questo hacker russo che trovò la vulnerabilità fondamentalmente tutta una serie di problematiche simili si sono succedute nel tempo per arrivare fino all'Ulzsec e ai nostri giorni con una serie di hack memorabili all'interno del panorama di sicurezza finanziaria. Non so se lo conoscete questo personaggio lui è Alexander Panin che è l'autore di Spy.Eye conoscete Spy.Eye come malware è una specie di Zeus dal quale prese molte funzionalità come ad esempio il form grabbing ovvero la capacità di rubare le credenziali all'interno dei form e lui a un certo punto venne appunto arrestato dall'Interpol quando era in Algeria questo è Bogacev che è l'allegged Zeus author tant'è vero che questa è una delle persone che diventò estremamente facoltosa tramite le criptovalute ma oltre a Zeus a lui si deve la creazione di Zeus peer-to-peer cioè la versione peer-to-peer di Zeus ma anche i cripto-locker tant'è vero che l'FBI poi trovò le chiavi di cripto-locker all'interno dei server utilizzati da appunto Bogacev che precedentemente erano stati utilizzati per la gestione della botnet di Zeus peer-to-peer questa è una utente molto capace delle creazioni dei precedenti per cui è stata accusata e poi anche condannata relativamente all'utilizzo del Troian Zeus per attività di hacking e furto verso gli utenti diciamo che c'è stato dal 2016 fino adesso un forte cambiamento nell'economia dei fraudsters di coloro che fanno le frodi questo perché? perché e come vedete dai numeri questo è un estratto del keynote di Alan Parler del Suns Institute a RSI Conference praticamente circa 170 milioni di carte di credito sono state rubate nel 2014 cioè 61 milioni sono state rubate su 170 milioni di credit cardholders e circa 450 milioni di social security numbers sono stati rubati durante lo PMHack e una sorte analoga hanno avuto anche quello dei votanti questo vuol dire che le informazioni relativamente agli hack online queste sono estremamente facili da trovare informazioni estremamente facili hanno portato a un aumento delle analisi antifrode che sono state fatte tramite la correlazione dell'uso inappropriato di queste informazioni tanto è vero che ad esempio una delle aziende che era deputata alla sicurezza delle transazioni Equifax faceva appunto l'analisi dell'eventuale utilizzo fraudolento di dati rubati Equifax come sapete circa due anni fa è stata hackerata e sono stati rubati moltissimi dati dal sistema antifrode stesso parlando della fraudster strategy dato tutta questa disponibilità di dati rubati disponibili online all'interno di DB ma anche all'interno della Darknet e canali privati il ritorno dell'investimento di un eventuale attacco dipende fortemente da alcuni parametri uno sicuramente è quanto il fraudster ovvero chi conduce la frode può rimanere può rimanere stealth ovvero non identificabile tracciabile una volta che ha fatto la frode e poi soprattutto relativamente alla riutilizzabilità dell'attacco che ha identificato molti degli attacchi sono specifici quindi vengono ad essere effettuati verso un un eventuale un eventuale target altri invece sono riutilizzabili come ad esempio quelli di malware per cui basta cambiare la configurazione e possono essere utilizzati in vari contesti questo è un esempio di broken access control un tipico una tipica vulnerabilità dove ad esempio la funzionalità di esecuzione del pagamento dovrebbe essere protetta da una funzionalità due fattori di autenticazione però questa è stata erroneamente messa all'interno della parte autorizzata solamente dalla sessione tant'è vero che col furto della sessione questo attacco risulta fattibile perché può essere bypassato il terzo fattore di autenticazione ovviamente questa tipologia di attività ricerca di vulnerabilità può essere sfruttata solamente verso l'istituto di credito o il sistema affetto da questa specifica vulnerabilità non come il malware che può essere utilizzato verso un numero ampio di sistemi relativamente all'attack pattern diffusion e distribution questo è un estratto dal Verizon Data Breach Report del 2015 gli attacchi web sono in come sempre in netto incremento se vedete cioè seguono una certa un certo incremento oltre anche a quelli di malware ovviamente tutto ciò funziona molto meglio quando come sempre accade gli utenti aiutano anche gli attaccanti perché di base anche le soluzioni di autenticazione più efficaci sono vulnerabili al fatto che gli utenti in qualche modo aiutino gli attaccanti perché molti pensano che la maggior parte delle frodi venga condotta con exploit estremamente sofisticati in realtà la maggior parte viene condotta sfruttando dei pattern sofisticati però che dipendono da condizioni per le quali l'utente viene frodato utente può essere anche l'operatore bancario ma comunque l'utente di un determinato sistema o portale come gli attaccanti bypassano le two-factor authentication two-factor authentication qui ne ho messe un po' ma ce ne sono di tutti i tipi ci sono le password le scratch card nel tempo le time-based OTP le HDP sono i challenge response cap le card authentication protocol gli sms challenges le autenticazioni tramite chiamata telefonica eccetera eccetera ovviamente ci sono dei modelli e degli aspetti di threat modeling che vanno a cercare di identificare come viene attaccato un eventuale utente però tutto ciò è abbastanza complesso diciamo per semplificare gli utenti sono protetti da controlli discrezionali cosa vuol dire? un controllo discrezionale è qualcosa che viene demandato all'istituto di credito cioè il fatto che un bonifico abbia un IBAN non corretto mentre gli altri dati siano corretti è un'informazione per le specifiche interbancarie devono essere verificate da parte dell'istituto ma è l'istituto che deve verificare la corrispondenza dell'IBAN ad un determinato recipient cioè se uno vi manda un bonifico con il vostro IBAN è l'istituto ricevente che verifica che l'IBAN sia effettivamente corrispondente al nome ok quindi questo controllo viene fatto dalla banca cosa succede? secondo voi quanti utenti quando fanno una transazione controllano il loro IBAN che sia effettivamente quello che avevano inserito durante la transazione precedente? probabilmente alcuni lo fanno però la maggior parte quando vedono che il nome è corretto l'importo esatto cliccano ok e fanno andare avanti il bonifico questo fondamentalmente vanifica la funzionalità di qualsiasi sistema di autenticazione forte perché quello che semplicemente deve fare il malware è prendere l'IBAN precedente questo è il vostro computer il malware si mette in mezzo modifica l'IBAN e poi lo fa passare con un IBAN differente l'attaccante sceglie un istituto di credito dove è connivente oppure sa che non fa questo controllo discrezionale ed è tranquillo sul fatto di ricevere l'eventuale bonifico perché ovviamente è l'istituto di credito che riceve il bonifico che deve fare la verifica l'attacco può essere visto in maniera più sofisticata cioè nel tempo sono nati numerosissimi sistemi all'interno dei computer ma su vari sistemi operativi da macOS windows linux eccetera che semplicemente fanno una cosa quando uno fa il copy di un determinato di una determinata stringa fanno l'eleven check ovvero verificano che sia un IBAN perché l'IBAN è un po' come le carte di credito può essere ci sono dei codici all'interno che verificano se un IBAN è corretto o meno e verifica che l'IBAN sia corretto se la stringa è un IBAN fanno il monitoring della clipboard se la clipboard contiene un IBAN lo modificano con uno degli IBAN che controllano loro così quando uno fa il copia e incolla di un eventuale IBAN si trova che fa un bonifico verso un IBAN che non è quello precedente ovviamente tale situazione è stata replicata anche all'interno delle criptovalute perché perché non fare la stessa cosa verso un indirizzo di cripto questi sono indirizzi ethereum cioè ethereum e bitcoin questo è il codice preso da X-Rays che fa la verifica in loop del fatto che la clipboard contenga eventuali indirizzi monitorando sempre più indirizzi verificano che un eventuale indirizzo eventualmente sia uno di quelli che è presente all'interno della clipboard il crypto clip hijacker va a controllare addirittura 2.3 milioni di indirizzi di criptocurrency per verificare se uno di questi indirizzi è in clipboard per poterlo sostituire fondamentalmente come potete vedere cioè tutte le soluzioni di sicurezza in un certo modo sono vulnerabili a malware perché l'exploit logico è quello di andare a fare in modo che l'utente approvi la transazione sbagliata se andiamo a vedere qua cosa fa l'utente l'utente si trova a un certo punto che dice tramite la sua soluzione di to factor authentication che questo sia un sms eccetera inserire il codice oppure premere il pulsante per fare in modo che la transazione vada a buon fine però quello che ha sotto è qualche cosa di non corretto ovviamente questo aspetto vuole anche un po' di connivenza poi dell'istituto bancario che poi viene ad essere in qualche modo complice per il fatto di non fare i controlli corretti fra la corrispondenza fra IBAN e utente ci sono altre tipologie di attacco ma questo l'anno scorso fra CH Tonic e tutta una serie di altri malware è stata qualche cosa di estremamente fastidioso perché comunque la vostra banca si vede uscire il bonifico verso l'istituto terzo poi questi possono andare a buon fine o meno però da un certo punto di vista una certa percentuale va a buon fine e per l'attaccante è un effort molto limitato perché basta andare a cercare gli IBAN e eventualmente sostituirli un'altra modalità di frode che comunque conoscete è quella del phishing il phishing da un certo punto di vista è qualche cosa sempre conosciuto è qualche cosa di banale soprattutto è interessante la modalità con la quale se uno dovesse andare a vedere la funzione di impatto fra tempo e apertura sapete cos'è una funzione di impatto cioè il fatto di vedere per ogni ora qual è il numero di aperture che uno riceve si è visto che le mail mandate verso l'ora notturna sono probabilmente perché uno si sta guardando il film su Netflix mentre guarda il proprio computer sono quelle più lette quindi cosa succede che la persona apre l'email senza prestare molta attenzione circa l'11% cliccano sugli attachment però l'attacco migliore è quando si verifica l'attacco di uno spam per così dire perfetto ovvero nel caso in cui un amico hackerato vi mandi l'email di spam questo è un attachment che proviene da Rotary richiesta mandato dalla segreteria del Rotary a tutti i membri del Rotary quest'anno è successo a marzo circa di una sezione provinciale non d'Italia ma hanno hackerato una persona all'interno della sezione e hanno mandato a tutti i membri un documento doc chiamato Rotary richiesta appunto doc proveniente dalla vera segretaria che l'ha mandato a tutti se voi fosse stati un membro dell'associazione avreste aperto il documento oppure no cioè sono stati questa questa cosa insomma non tutti l'hanno aperto perché io ne sono venuto a conoscenza perché mi hanno telefonato e mi hanno detto c'è arrivato un documento strano noi lo apriamo e questo file c'è scritto questo file è stato creato con una versione presente di Microsoft Word poi hanno scaricato una versione presente di Microsoft Word l'hanno aperto c'era sempre scritto una versione presente di Microsoft quindi hanno capito che c'era qualcosa che non andava però di base cosa è successo che tutta una serie di libri professionisti di aziende eccetera hanno visto una richiesta della segreteria che mandava un documento di richiesta loro l'hanno aperto per vedere questo documento cosa contenesse oppure l'hanno girato le segretarie che lo aprissero voi considerate che il numero di interlocutori all'interno di un'azienda è molto superiore all'unico poi recipient dell'email perché poi ci sono le segretarie ci sono le altre persone che sono all'interno quindi semplicemente mail molto banale vedi allegato vedi allegato e confermare cordiali saluti dottoressa nome e cognome che l'ha mandato in più con l'attachment però personalizzato questo era un Trojan Ursnif come sapete bene un Trojan bancario capace di interagire così con i siti bancari che l'utente va a visitare con il dropper eccetera eccetera quindi di base attività focalizzata ad eventualmente rubare i soldi dei professionisti che avrebbero poi successivamente utilizzato il conto corrente questo non è l'unico modo con il quale solitamente si cerca di installare un malware molto in voga sono i drive by downloads quindi i download guidati questi tutte le volte che qualcuno va a vedere una partita di calcio oppure va su casa cinema che va a cercare un film spesso vengono chiesti delle installazioni sul browser di plugin e altre cose che sono delle tecniche efficaci per far installare cioè uno pensa che la maggior parte delle installazioni venga fatta tramite exploit invece la maggior parte delle installazioni viene fatta utilizzando dei trick relativamente banali che però l'utente ci casca questo è anche un investimento a lungo termine perché mentre gli exploit a un certo punto per qualche motivo vengono killati voi trovate l'exploit sul quale ci lavorate da una vita lo fate il più bello possibile poi a un certo punto qualcun altro lo trova ve lo uccidono una tecnica di questo tipo se fatta bene funzionerà per sempre quindi di base diventa una modalità che poi può essere portata anche su mobile come in questo caso questo è un mobile drive by download delle infection campaign che possono essere fatte anche sfruttando le API dei social network qui vedete un'integrazione di un plugin è un po' vecchia ma questo qui era di un plugin per Skype che mandava a tutta la rubrica di Skype un determinato attachment malevolo quindi uno si trova queste cose le potete fare benissimo con Telegram non so se avete mai usato Telegram command line interpreter che usa l'MP protocol voi potete prendere se avete accesso ad una rubrica le credenziali dell'utente potete connettervi a tutti i gruppi di questo utente e mandare un attachment a tutti i suoi contatti ovviamente c'è il social engineering ci sono gli exploit kits che ovvero tutta una serie di tool che vengono sviluppati per fare in modo di fare le installazioni automatiche usando di zero day o eventualmente anche degli exploit relativamente recenti questo è un esempio di un exploit vecchio per flash ma fondamentalmente qui non serve interazione dell'utente per cui per cui aprendo un eventuale sito web si viene automaticamente automaticamente bucati tecniche blend dall'interno di siti molto conosciuti portano un ritorno dell'investimento più alto questo è l'esempio di Citadel e di Redkit del 2013 quando durante la finale del Super Bowl venne hackerato il sito dell'NBC e venne aggiunto un iframe all'interno del sito quindi gli aggiunsero un iframe proprio la sera del Super Bowl per cui tutti coloro che andavano a vedere il sito nbc.com avevano questo iframe all'interno del sito per cui avrebbero caricato il Redkit exploit kit e poi installato Citadel che è una variante di Zeus noto banker delle varianti includono l'SMS phishing questo anche è un qualche cosa che succede spesso ma soprattutto perché gli utenti mobile fanno fatica a vedere quando cliccano sui link qual è il nome del sito quindi arriva l'SMS cliccano sopra l'indirizzo non si capisce tanto bene o viene aperto all'interno di una web view a un certo punto risulta efficace ma l'advertising è quella tecnica per cui all'interno di un qualche sistema di broadcasting di advertisement si mette del contenuto malevolo questo mi è capitato su dei siti di newspaper italiani per cui anche delle persone andando a leggere degli articoli ad esempio la mattina si svegliano e vanno a vedere il giornale oppure vanno poi in ufficio e guardano l'articolo sul proprio quotidiano di fiducia se c'è qualche interazione con dei javascript aggiunti all'interno delle piattaforme openx che poi gli advertisement vengono broadcastati e vengono usati delle piattaforme abbastanza standard per poterli diffondere ma succede quando viene emesso un contenuto malevolo che tutti coloro che vedono poi quel contenuto vengono di base infettati mi è capitato con un utente che si è infettato con spy.ai questo un po' di tempo fa però era andato a vedere un determinato contenuto su un newspaper italiano banking malware banking malware ce ne sono di tanti tipi quali sono gli step del banking malware ovviamente prima l'infezione poi il furto dell'identità la collezione di dati la preparazione al caching out e poi il caching out vuol dire effettivamente il fatto che vengano rubati i soldi alla vittima questo era un esempio di quando avevamo cercato questo un po' di tempo fa nel 2015 di fare una mappatura delle funzionalità presenti nei vari banking malware che però poi in un qualche modo nel tempo si sono uniformate però qui si può vedere che i vari plugin erano presenti una volta come lo sono adesso cioè la cosa incredibile che primi banking malware cioè se uno pensa a Zeus a me la cosa che mi stupisce più di Zeus è che quando Zeus venne fuori sui primi sui primi portali costava circa 1500 bitcoin adesso sapete 1500 bitcoin quanto valgono basta che fate basta che fate i conti adesso un bitcoin è circa 6800 dollari quindi coloro se non li hanno convertiti quei bitcoin che hanno avuto al tempo sono molto facoltosi insomma i vari autori ma anche i sellers le funzionalità che vedete che sono state aggiunte nel tempo bene o male sono le stesse presenti adesso forse quella più nuova è quella che vi ho fatto vedere prima relativamente all'Iban swap un'altra funzionalità molto in voga che si è vista con il dire attack pattern è quella del controllo remoto del desktop dell'utente da aeree carbonac fondamentalmente il fatto di utilizzare l'utente non solamente come come in modalità se vogliamo passiva per cui inseriva i dati e poi questi venivano mandati in un data center ma usare attivamente il computer dell'utente come come ponte per effettuare poi le transazioni malevole questo da un punto di vista di frode ha creato una serie challenge l'identificazione dei dire perché dire utilizzava effettivamente lo stesso computer dell'utente voi immaginate che l'utente si connette poi a un certo punto l'attaccante si connette come proxy e come stessa schermata al computer dell'utente ed è l'utente stesso che poi va a fare la frode verso se stesso dal suo stesso ip dal suo stesso computer prego ah ok scusate niente ho fatto troppe slide niente allora il l'evoluzione dei 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 banking malware è stata è stata molto è stata molto veloce ci sono stati questo ad esempio è una è una è una botnet dove le transazioni vengono effettuate in automatico eravamo riusciti ad avere di zeus peer to peer una dell'interfaccia di controllo qui si vedono in tempo reale gli utenti che si connettono questi utenti scaricano che poi immaginate questa cura nella creazione dell'interfaccia di controllo per cui è molto rudimentale però tutti gli utenti si connettono prendono i dati questi sono i d degli utenti delle varie banche che sono che sono connessi al sistema loro vedono l'impostazione qui le ho oscurate loro mettevano quali impostazioni a cui fare il bonifico e in automatico veniva effettuato il bonifico verso l'attaccante webinjects tandem attack eccetera per concludere cosa vi posso dire fondamentalmente sono andato un po' lungo perché non sono riuscito subito a far partire la presentazione però non sentitevi al sicuro utilizzando i vostri sistemi bancari state molto attenti ai vari allegati cosa vi viene inviato perché quasi tutte le soluzioni di two-factor authentication che vi danno gli istituti bancari sono in qualche modo bypassabili quindi la cosa più importante è quella di identificare un'eventuale anomalia in quelli che sono le transazioni siano queste fatte con criptovalute IBAN eccetera eccetera perché ricordatevi le carte di credito sono assicurate per cui se vi succede qualcosa all'interno delle carte di credito entro 20 giorni voi fate la denuncia oppure lo comunicate alla banca immediatamente vi ridanno tutti i soldi se vi rubano 500.000 euro dal conto corrente nonostante che uno vi chieda ma come è possibile che vi rubino 500.000 euro dal conto corrente riescono anche a rubarvi 500.000 euro dal conto corrente dipende quanto si sono preparati gli attaccanti per fare quella determinata attività devono studiare bene come funzionano gli eventuali limiti che ha la banca e tutta una serie di cose però di base il discorso è state attenti alle anomalie se avete qualche informazione attivate gli sms andate a vedere che cosa vi comunica la banca se c'è qualche cosa comunicate e cercate di bloccare quella transazione prima possibile perché i furti su conto corrente non sono coperti da assicurazione necessariamente cioè rischiate di andare in contenzioso poi in tribunale e poi di non avere i vostri soldi indietro ok quindi di base volevo farvi vedere altri esempi però effettivamente sono andato per le lunghe grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti